Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani e abbiamo una tipologia di esercizio interessante. Ve lo leggo. Buonasera. Diamo subito un'indicazione. Questo tipo di esercizi è utile per il concorso ordinario docenti, scuola, mettiamo, dai, e essenzialmente metto 1 perché è la prima prova preselettiva. Allora, andiamo a leggere la traccia. Buonasera, qualcuno potrebbe per piacere spiegarmi quale procedimento bisogna svolgere per rispondere al problema qui sotto? La risposta esatta è la B. Allora, in un cassetto ci sono 5 calze bianche. Eccole. Allora, il cassetto. Questo è il cassetto. Siccome è utile anche utilizzare l'intelligenza visiva, ho creato uno schema che possa riproporre quello che è chiesto nella traccia. Ci sono 5 calze bianche, e queste sono le 5 bianche, e 6 calze nere, e queste sono le 6 calze nere. Inoltre ci dice quante calze si devono estrarre a occhi bendati, il che significa che abbiamo un'estrazione dei calzini casuale. Per essere sicuri di averne estratte 3 dello stesso colore, essere sicuri significa che vuole una probabilità del 100% di avere 3 calze dello stesso colore. Per risolvere questo esercizio non vale la pena scomodare nessuna formula, bisogna fare solo delle premesse, ci possono essere diverse possibilità, e in particolare mi interessa farvi notare che esiste un caso migliore e un caso peggiore. Il caso migliore, ossia quello di avere 3 calzini dello stesso colore con il minor numero di estrazioni, ovviamente è il 3. Ossia, che io estrago nella prima estrazione una nera, nella seconda una nera, nella terza una nera, oppure una bianca, una bianca, una bianca. Ma tanto non lo dobbiamo considerare. In questi tipi di esercizi, in maniera del tutto logica, basta andare a considerare il caso peggiore. Il caso peggiore qual è? È che nelle estrazioni mi esca una volta una bianca, una volta una nera, cioè mi escono alternativamente un calzino di un colore e un calzino di un altro, e quindi impiegherò più tempo per avere 3 calze dello stesso colore. Quindi, una bianca, una nera, una bianca, una nera. Ok? E con questo ho accumulato 4 estrazioni. Successivamente ci potranno essere solo due possibilità. O che esca una bianca, o che esca una nera. E a me vanno bene entrambe, perché se esce una bianca, avrò 3 calzini bianchi. Viceversa, se esce una nera, avrò 3 calzini neri. Quindi, mettiamolo in nero, con la quinta estrazione, assolutamente, come già ci veniva suggerito, probabilmente c'era già scritta qual era la soluzione corretta, bisogna estrarne 5. Allora, come vedete, in questo tipo di esercizi possiamo subito andare a... Vediamo se ci riesco anche con la... No, probabilmente mi ci vuole il mouse. Dobbiamo subito andare a valutare l'alternativa peggiore, il caso peggiore, perché è il caso che richiede più estrazioni, perché se andiamo a... Il caso peggiore comprende anche il caso migliore. Quindi avremo una probabilità, lo sposto poco poco la nostra freccia, avremo una probabilità del 100% quando, anche nel caso peggiore, quindi quando con 5 estrazioni, saremo andati a prendere 5 calzini, di cui sicuramente o 3 neri o 3 bianchi. Bene, io con questo vi ringrazio e vi saluto, vi ringrazio per i commenti perché mi seguite e non ho con me nessun dispositivo, quindi se volete dare una mano al canale per avere i nuovi video qui sotto, dovrebbe esserci il tasto per iscrivervi e attivare la campanellina. Scrivo qui sotto in generale per lasciare i commenti, che sono la cosa, a mio avviso, più utile per il canale, perché abbiamo la possibilità di interagire, voi avete la possibilità di comunicare le vostre esigenze, i vostri feedback, dare nuovi spunti, suggerire nuovi esercizi. Qui, se il video vi è piaciuto, potete lasciare un bel like e sopra, in alto, c'è il link del... anzi, qui sotto, penso, c'è proprio il tasto per condividere, si può condividere e copiare il link e condividerlo con gli amici o in gruppi, insomma, di studio, per aiutare a far conoscere il canale. Io con questo veramente vi ringrazio, vi auguro una buona prosecuzione di giornata, un buono studio, di essere sempre tanto motivati e... al prossimo... alla prossima diretta.